Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Top Games. Io come sempre sono Andrea e oggi andremo a vedere cose da fare varie ed eventuali all'interno di Elden Ring. Anche questo video come sempre è offerto dal nostro sponsor Aoea, un sito dove potrete acquistare armi, armature, materiali di gioco, rune e chi più ne ha più ne metta per Elden Ring e se utilizzerete il coupon Top Games riceverete un ulteriore 3% sul vostro acquisto. A questo punto non vi resta che iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento qua sotto e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video. Allora ragazzi oggi vediamo come si fa a prendere la mappa di Villa Vulcano. Dobbiamo andare al Ponte dell'Iniquità. Per raggiungerlo potete fare comodamente a piedi, non è difficile, basta correre. Allora avanzate per la zona stando attenti perché ci sono i nostri amici che ci catturano. Sulla sinistra vedrete due fuochi e una scala, dovrete salire fino in cima. Questa sessione è una sessione quasi interamente di climbing, quindi ci ritroviamo ad arrampicarci come dei forsennati. Qui a sinistra se volete c'è una grazia, io l'ho ignorata perché tanto l'avevo già presa e sono andato avanti. Troverete sulla destra subito passata la torre con gli arcieri, un ponte fatto di pietra e altre scale. Io qua vi farò vedere una strada che vi permette di prendere anche il mercante che c'è strada facendo perché è un peccato perderlo. Ha dei vestiti che mi ricordano molto Bloodborne e forse sarebbe il caso di averli perché comunque anche solo per estetica sono molto carini. Come potrete vedere adesso vado, vendo un po' di roba perché ero senza rune perché sono morto tipo 37 volte e ora recupero il vestiario stile Bloodborne. Continuate a salire perché la strada è ancora un po' lunghetta, più che altro è noiosa ragazzi, non è assolutamente difficile. Per riuscire ad arrivare alla zona potrete saltare anche un boss che troverete qua in cima che però vi consiglio di fare perché droppa una spada molto 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 particolare e molto potente, ve lo assicuro. È una delle più belle che ci siano nel gioco anche come moveset e secondo me vale assolutamente la pena di essere presa. Passate il ponte e come vedete c'è il nostro tornado che ci fa schizzare in aria. Qua incontrerete il boss ma noi dobbiamo andare a destra. Saltate sui vari ponticelli, scendete, proseguite leggermente a destra perché se saltate da lì vi fate ancora male. A questo punto correte, 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 schivate tutte le mani fastidiosissime e siete arrivati alla mappa e non vi preoccupate di morire. C'è una grazia qua dietro quindi andate, attivate la grazia e pazienza. Poi la mano vi distruggerà come pochi al mondo ma voi avrete ottenuto la vostra mappa di villa vulcano. Quindi ragazzi ora avete sbloccato tutta la zona. Mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento qua sotto e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video. Noi ci rivediamo sempre qua su Top Games e ciao a tutti. Noi ci rivediamo sempre qua su Top Games.